Prima di iniziare, non dimenticarti di iscriverti al canale per non perdere nessuna news, gossip e aggiornamento. Elisabetta Canalis sconvolge tutti alla Milano Fashion Week. Nella scintillante cornice della Milano Fashion Week, un evento straordinario ha catturato l'attenzione di tutti gli occhi presenti. Una figura iconica, Elisabetta Canalis, ha dato vita a un momento magico, suscitando meraviglia e ammirazione. Ma ciò che è accaduto durante questa serata straordinaria va oltre l'abbigliamento elegante e la bellezza che l'accompagna. Continuate a guardare il video per scoprire il segreto che ha incantato Milano. Dopo il divorzio da Brian Perry, Elisabetta torna alla settimana della moda di Milano più affascinante che mai. Raccoglie con grazia la sua lunga chioma, creando un effetto bagnato. Indossa un elegante body nero che lascia le gambe scoperte, svelando la loro bellezza tonica e slanciata sotto calze velate. Per completare il suo outfit, sfoggia un leggero cappotto nero trasparente. La 45enne ex velina è una visione di magnificenza, emanando glamour e fascino all'evento di moda calzedonia. Con fiducia, si fa fotografare, godendosi una serata ricca di sorprese. Accanto a lei, ci sono figure altrettanto favolose, come Melissa Satta, che ha anche un passato sul palco di Striscia la Notizia, e Cristina Marino, moglie di Luca Argentero. Canalis si diverte nel momento con allegria. La sua forma fisica rimane intatta, è indiscutibilmente bellissima e affascinante. Grazie per essere passato dal genio del gossip per la dose giornaliera di news e aggiornamenti. Non dimenticarti di lasciare un mi piace e iscriviti per non perdere nessuna notizia. Al prossimo video!